benvenuti ragazzi a un altro video su rivoluzione di parole io sono il rezzo e oggi parliamo di la scrittura delle canzoni come scrivere una canzone ovviamente questo non vuole essere un tutorial passo passo pratico diciamo in cui scriviamo insieme una canzone volevo semplicemente darvi qualche informazione in base anche a quella che è la mia esperienza diretta come musicista produttore di testi e di canzoni e magari vi lascio anche la playlist alcuni brani del disco così vi fate un'idea e mi dite anche voi se diciamo tutta la teoria che vi dirò in questo video è stata applicata bene con i miei testi o meno e dicevamo da cosa si parte per scrivere si parte dall'esigenza ognuno di noi ma tutti abbiamo cose che non riusciamo a spiegare nella nostra vita quotidiana con le parole e di conseguenza appunto le cose sono due o ce le teniamo dentro o le buttiamo fuori se abbiamo la fortuna di avere delle persone fantastiche intorno a noi che sono molto recettive molto interessate a quello che noi abbiamo dentro chiaramente sopperiremo molto a questo bisogno sta di fatto però che comunque ci sono davvero delle cose delle sfumature delle percezioni magari legate anche alla nostra storia personale che è molto difficile comunicare agli altri e qui allora arriva la scrittura arriva la poesia arriva l'arte e quali sono gli approcci principali che possiamo avere quando ci vogliamo mettere a scrivere una canzone allora possiamo partire da appunto da un'ispirazione che abbiamo avuto da un'idea da una frase che ci colpisce o che ci sono in testa e dalla nostra rabbia verso un determinato fatto politico sociale oppure da un atteggiamento culturale che non ci piace possiamo diciamo il punto di partenza può essere qualunque l'importante che abbiamo molto chiaro qual è appunto il nucleo della canzone cosa vogliamo dire alla fine al di là che riusciremo a comunicare bene o male ma sarà bello o meno la nostra canzone ma cosa vogliamo dire partiamo da lì e cominciamo a scrivere tutte le cose che ci vengono in mente rispetto a quella cosa la proviamo a descrivere da tanti punti di vista ad esempio se io voglio fare una canzone su che ne so sul momento in cui ho conosciuto mia moglie in treno dovrò descrivere almeno indirettamente o accennare far capire comunque nella mia prosa quello che sta succedendo dove siamo il dialogo che avviene tra chi e chi avviene e quindi diciamo per fare questo ho bisogno ovviamente di saper utilizzare molto bene lo strumento principale quindi la lingua italiana dico questo ragazzi perché se voi provate a prendere un testo inglese qualsiasi prendete non so le istruzioni dell'aspirapolvere vi mettete sopra una qualsiasi base musicale e noterete subito che c'è una facilità incredibile di cantare perché perché l'inglese la maggior parte delle parole in inglese sono parole monosillabiche o questo fa in modo che è come se nel tracciare la melodia della canzone noi avessimo a disposizione tanti piccoli puntini ogni parola essendo monosillabica si associa perfettamente ai suoni come dire una nota una parola cosa che non avviene in italiano scrivere da una storia personale come sapete la maggior parte delle canzoni pop e rock a livello mondiale direi parla proprio di storie personali soprattutto storie quasi sempre sul tema amoroso quasi sempre finite male o comunque con un po di amaro proprio perché chiaramente mentre le storie finite bene quindi diciamo le storie di amori veri concreti reali sono poche le storie fallite sono infinitamente più numerose questo fa in modo che tutti questi fallimenti siano proprio quello che crea grande empatia verso questo tipo 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 di testo stesso motivo per cui io non provo nessuna empatia a livello personale quando sento delle canzoni sull'amore andati male non posso impedirmi di pensare che quel testo non sia proprio così vero così sentito perché sono andato male perché doveva andare male non poteva succedere nient'altro mentre spesso nei testi sentiamo se avessi fatto se avessi detto se fosse ancora qui se avessi detto quello se no nell'amore non funziona così ragazzi cioè una persona volami e la stimi e quindi superi tutte le difficoltà di comunicazione con questa per stare con lei oppure se basta una cazzata qualsiasi per allontanare le persone quell'amore era un amore molto superficiale e queste canzoni sono canzoni molto superficiali senza togliere i meriti che hanno nel senso che è vero che ci sono molte canzoni anche superficiali che però coinvolgono perché uno per il potere della musica e due perché bene o male raccontano una storia che tutti abbiamo vissuto almeno da ragazzini insomma la delusione amorosa oppure il desiderio e la brama per la donna che non è impossibile un po come Beatrice per Dante il cielo se come quei tuoi occhi sono i tuoi capelli sono così mariano lasciamo perdere queste immagini parliamo della vita concreta è molto più bella e molto più poetica detto questo ragazzi vi dico ciao no vi saluto e ci vediamo al prossimo video voi ovviamente iscrivetevi se non l'avete già fatto commentate quindi datemi il vostro parere quali sono gli odori che ascoltate di più avete provato a scrivere delle canzoni avete avuto una bella esperienza una brutta esperienza avete smesso continuate siete appassionati ditemelo volete suggerirmi delle letture in base appunto all'argomento che io le farò volentieri poi magari facciamo un altro video insomma dai portiamo avanti un po questa comunità che secondo me può creare delle cose interessanti detto questo ragazzi vi saluto ci vediamo mercoledì prossimo con un altro video di rivoluzione di parole